Voglio fare un gioco Cari amici benvenuti in questo video dedicato a... No, non è Yandere Simulator, è Psycho no Sotuka Un gioco molto yandere, molto inquietante che tutti quanti volevate vedermi giocare E finalmente eccolo qua, fresco fresco da Steam E già ho un po' d'ansia perché questa signorina ha una testa decapitata sulla schivania E si sta facendo le unghie con un coltello, anzi sta accarezzando un coltello insanguinato E qui c'è un tizio tutto imbavagliato e legato a una sedia Direi che ormai è canon che le yandere leghino la gente nello scantinato Proviamo a premere il tasto storia e scopriamo che ci sono vari finali I finali principali, i finali yandere e i finali yanghire Dove immagino che la protagonista se la prenda un po' tanto con il suo senpai Perciò giochiamo e vediamo come va, oh no Quante difficoltà ci sono esattamente? Incubo, yanghire o yanghire non so come si pronuncia Difficile, normale, yandere Porca miseria, c'è la difficoltà kiria per cortesia? Tipo normale, yandere, difficile Oh mamma mia ma che ca... Yandere, yandere, difficoltà yandere è meglio Nota importante, ricordati che puoi portare solo una chiave alla volta in mano Attento, correre e creare rumore potrebbe attirare l'attenzione Abbiamo qui una bella scuola tipo quella dell'academy height Torno presto, cosa torno presto? Nessuno vuole vederti bimba quindi levati Aspetta un po', ma sono io il senpai di questa tizia? Oh no, oh no, Monica il ritorno Sì, ok, ma io da dove cavolo entro? Dalla porta? Sì, per fortuna sì Ok, qui abbiamo una bella scuola E io perché dove scappare da qui effettivamente? Voglio dire, sono già fuori, posso già andarmene, no? Non ho le chiavi, ok Non ho nessuna chiave, posso aprire un inventario, qualcosa Non ho assolutamente niente, sono abbandonata a me stesso come un verme Ah, questo sono io Eccomi, vedo la mia ombra Ok, qui ci posso entrare Sì, ma non c'è niente qui per me Cos'è questo 7XXX? Mi fa venire l'ansia solo a guardarlo Posso bloccare la porta? Immagino che sia per tenere fuori qualcuno Vabbè, intanto usciamo La classe D2 è aperta Buona sapersi La classe D3 invece no Oh, che carino, riesco a vedermi le mani e i piedi Ehm, cos'è sta cosa? Corpse bombing at the graveyard Non so cosa sia Non so niente di questa roba Sto imparando Ho cercato di fare una blind run Ma me ne sto pentendo Vabbè, almeno al momento lei non mi sta inseguendo Tutto il tempo di esplorare la scuola come mai io credo E scoprire che qui è tutto maledettamente chiuso Anzi no, la classe C2 è aperta Anche questa seconda è aperta Sala riunioni È chiusa Ehi, ti sento? E che bellina Ma tanto non mi fai mica niente No, in questa modalità Io posso semplicemente esplorare un pochino Mica devo aver paura delle maniache che mi rincorrono Ok, sono arrivato al tetto E adesso mi butto di sotto Oh, è il tramonto Guardate che gambe lunghe che ho Ehm Questo cosa ci denti è? Un mattoncino Ma non lo posso usare adesso mi sa Eh, ciao Chi stai cercando? Posso aiutarti a trovarlo? Hai intenzione di seguirmi per caso? Perché sei scalza? Seguimi Ok, se ti seguo che succede? Sembi quasi carina Vista così Dov'è la fregato Oh Oh Cos'è sto glitch? Vabbè, te l'apro io la porta, dai Non sai aperti la porta, bimba? Hai una chiave attaccata Scusami, questa chiave Mi piacerebbe averla Scusami, eh Scusami, non ti voglio toccare il sedere Però vorrei Quella Forse non avrei dovuto prenderla quella chiave No, ma dico così Forse era meglio se non la prendevo Hai trovato la chiave della porta? Di quale porta esattamente? Mi sa che non dovevo No, mi sa di no Mi sta rincorrendo con un'ascia Quindi no, non dovevo Ok, la prossima volta ti do retta Ti punirò Ma cosa ti punirò? Ma non mi piacciono sti giochetti Via, via, via Me ne posso andare basta per cortesia? Aspetta, la chiave di che porta ho trovato? Io no, no, no Non voglio Non voglio andare sotto scala Voglio soltanto uscire da qui Ah Questa mi prende e mi ammazza Questa mi prende e mi ammazza Lo so, lo so, lo so Come vanno queste cose Ma per caso posso uscire già da qui? No, no, ovviamente Allora, di quale porta stiamo parlando? Sarà con più Non lo so di che Aia Mi ha avvelenato Mi ha avvelenato sta qua Aia Smettila Smettila Di che porta stiamo parlando? Cosa vuoi che ne sappia io? Aia Te la smettiamo per favore Che questo perde sangue qui Posso andare in infermeria? No, ovviamente no Figurati se posso andare in... Ah Vai via Ma posso farti qualcosa io? Ti posso? Ah No, non la posso colpire Tipo con la chiave No, no Non dovevo fare quello che ho fatto No, no, no Mi raccomando ragazzi Non rubate le chiavi Alle tizie inquietanti Che girano per la vostra Scuola Dove è andata? È sparita E questo mi inquieta ancora di più Di quando la vede Ma è lì dietro Tipo Ti sei glitchata per caso? Eh sì Si era glitchata No, no, no Come... Che mi è venuto in mente Di guardare cosa stava facendo? Ma come ha la maschera Antigas Sta qua Ma che modi? Eh Ok Ok Non so perché Ma me l'aspettavo Che sarebbe finita così Torno presto Torno presto Cosa? Ma chi sei? Ma chi ti conosce? Ma chi ti vuole? Ma almeno ci fosse una mappa Per capire un attimo Dove devo andare No Invece no Nessuna mappa Si va a sentimento Eh Eh Ciao Bentornata Chi stai cercando? Posso aiutarti a trovarlo? Io non so di cosa parli tesoro Dai stavolta non ti rubo le chiavi Andiamo Dai Che stai facendo? Ti guardo Ti guardo perché non mi piace Averti alle spalle Più di tanto Vabbè Vai avanti tu Eh Che è meglio Forse in questa stanza In questa stanza Chi esattamente? Cosa devo prendere in questa stanza? Beh Lei si guarda intorno Ed entra nell'armadietto Ma Ma cosa? Ma perché uno dovrebbe stare dentro l'armadietto? Ma chi stiamo cercando poi? Ma guarda Non c'è nessuno neanche in questo armadietto Ma Che gente conosci tu Che entra negli armadietti così Per sopravvivenza? Beh certo Conoscendo una come te Forse anch'io dovrei entrare dentro l'armadietto A questo punto Cosa stiamo? Che stai successo? Hai preso la scossa? Sembra che qualcosa sia andato storto Nella stanza dell'alimentazione Andiamo a controllare insieme Sì Beh Bello Non potevi schiopparci direttamente Con quella scossa No Volevo dire Andiamo Sì Rimettiamo a posto tutto Lasciami aprire la porta È perché tu le chiavi ce le hai A differenza mia Mi dispiace Non so come risolverlo Eh io lo dovevo sapere Invece Puoi aiutare? Eh Avvia gli interruttori sottostanti Per connettere il circuito Ok Praticamente bisogna accendere Le luci dello stesso colore Tutte nello stesso momento Ecco Ce l'abbiamo fatta Eh La corrente ora funziona Seguimi Sì Ti seguo Ma noi ci conosciamo Siamo compagni di scuola Compagni di classe Compagni dei narcotici anonimi Cosa siamo esattamente? Forse in questa stanza Che cosa? Lascia che ti aiuti Non so di cosa stai parlando Donna Spiegati Ah Oh cavolo C'è davvero qualcuno Dentro l'armadietto qui? Ma chi è sto qua? Non sembra stia bene Devo svegliarlo C'è un kit medico In infermeria E io dovevo lasciarti qui sola con lui? Potrebbe aiutare Io non so neanche dov'è l'infermeria Questa è la chiave dell'infermeria Ah Grazie Prendilo il prima possibile Ma Ma Va bene Vado Ma è ancora vivo quando torno sto qua? Non è decapitato come il tizio che ho visto nella cazzina iniziale Vero? Ehm Allora dov'è che siamo noi qui? Nella classe B1? Va bene Ok Ecco l'infermeria Ah Bast Perché mi ha avvelenato sta brutta infame? Ho curato la mia salute Dov'è il kit del pronto soccorso di cui parlava? Quella spepera? E que- No questi sono guanti No Sonno Sonno No 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 Non c'è niente qui Non c'è niente Mi ha imbrogliato Eh lo sento che mi gira la testa Che cosa dovevi fare? C'è qualcosa qui? No Non c'è niente Ho già usato tutto quello che avevo Ehm Mi sono addormentato Torno subito Cosa? Oh no Mi sono svegliato così No No Sono Sono un eletto dell'infermeria Legato Ovviamente Figurati se non finiva così Oh no Oh no Oh no Ti prego smettila Oh signora Oh no Che bestia sei tu? Ti sei fatta anche capelli diversi Perché c'hai un coltello? Oh no Smettila Smettila Cosa vuoi da me? Ehm Non prevedo niente di buono Oh no Cosa vuole? Ma che cavolo? Ma questa doveva essere la modalità facile? Ma che accidenti ho appena visto Ehm Modalità Yandere Sei morto Finale cattivo Bello Bellissimo Quindi ho sbloccato anche uno dei finali Eccolo qua Eccolo qua Il finale che ho sbloccato Quello in cui Mi addormento e finisco qua Lo sapevo che non dovevo fidarmi di lei Lo sapevo Ma beh non importa Sono tutte cose che abbiamo scoperto Che metteremo a frutto nel prossimo video Di Saiko Non so Tuca perché sì Ce ne saranno altri Io so che li volete Io lo so che li volete Ditemi nei commenti se li volete Spero tanto di sì Detto questo Io vi ringrazio tantissimo Per essere stati con me Fino a questo momento Grazie per il vostro sadismo Ad avermi consigliato questo gioco E io adesso Mentre vi saluto Vi rimetto in loop Questa scena In cui potrete vedere Saiku Che ammazza Questo poveraccio Ciao E mi raccomando Fatemi sapere nei commenti Se avete qualche consiglio per me Perché onestamente Ne avrei bisogno Visto che mi oriento Zero Ciao 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 Ciao